potevamo fare di più secondo me dovevamo fare di più per vincere la partita secondo me è stata una bella partita da parte di tutte e due le squadre è stato un buon teramo non so se meritavamo di più guardo sempre il risultato del campo, il campo ci ha dato che abbiamo pareggiato e credo che dovevamo fare qualcosa di più per portare a casa la vittoria pareggiare a volte è facile e vincere è un po' più complesso quindi continuiamo, perseveriamo sul lavoro quando dico che dovevamo fare di più non nella prestazione ma vincere è sempre qualcosa di difficile e quindi quando non vinci qualcosa di più potevi fare adesso nelle occasioni non le ho riviste, non so però parlo proprio a livello di di creare più energia per far qualcosa in più ma a parte questa scuola ha fatto una grande prestazione questo deve essere il primo passo verso la nostra rinascita non che eravamo però venire da due sconfitte da un periodo per me questo è il primo passo perché sono convinto che questa partita sia una partita che ci possa dar tanto adesso abbiamo due partite in casa e dovremmo fare il massimo insomma grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti